Per aver sottolineato nel romanzo, attraverso le ricette del personaggio principale, l'importanza dei valori umani nella consapevolezza delle proprie radici, nella determinazione, nella lotta attraverso percorsi di sacrificio e amore, o corsi per soddisfare una passione, raggiungere un sogno senza mai distordere l'attenzione dagli insegnamenti, attingendo alla storia e alla devozione per l'amata terra di Maremma.